Gesù insegna ai suoi discepoli il sano realismo, perché volere questo o niente non è cattolico, è eretico. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato l'insegnamento di Cristo e discepoli descritto nel Vangelo di Matteo. Se hai un problema con il fratello, prima riconciliati con lui, poi vai all'altare. Gesù ci conosce, ha spiegato, e ci chiede di liberarci da un idealismo rigido che non permette di riconciliarci tra noi. Tante volte non si può arrivare alla perfezione, ma almeno fate quello che potete, ha detto Gesù, mettetevi d'accordo per non arrivare al giudizio. Questo sano realismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica mai insegna o questo o questo. quello non è cattolico. La Chiesa dice questo e questo. Fa la perfezione, riconciliati col tuo fratello, non insultarlo, amalo, ma se c'è qualche problema almeno mettiti d'accordo perché la guerra non scoppia. Questo sano realismo del Cattolicesimo. Non è cattolico o questo o niente. Quello non è cattolico. Quello è eretico. Gesù sempre sa camminare con noi. ci dà l'ideale, ci accompagna verso l'ideale, ci libera di questo ingabbiamento della rigidità della legge e ci dice ma fa fino al punto che voi potete fare e lui ci capisce bene. E questo è il nostro Signore e questo è quello che ci insegna a noi. Questa, ha concluso il Papa, è la santità piccolina del negoziato. Voglio fare di tutto, almeno per non fare la guerra e vivere in pace. Chiediamo al Signore che ci insegni a metterci d'accordo fino al punto che noi possiamo farlo.